Denunciare gli estorsori e la strada per liberarsene. L'ennesima conferma a questa tesi è fornita dagli arresti di Luca Mi, trentenne di Nardò, affiliato al clan dell'Anna della Sagra Corona Unita, e Pierluigi Calignano, pregiudicato ventunenne leccese, effettuati all'alba dalla Polizia di Stato. Lo scorso settembre due malvimenti si erano presentati senza preoccuparsi affatto di essere visti in Piazza Salandra sul set del film Sei mai stata sulla luna a Nardò, opera cinematografica del Pepito Produzioni. Per chiedere a Fabio Marini, il location manager, un incontro dissero con quello che comanda, ma furono rinviati alla sera perché la troupe in quelle ore era impegnata. Nel pomeriggio Mi e Calignano, agendo a volto scoperto, rubarono da un camion della truppo alcune apparecchiature cinematografiche e serice, trasmettitori, bottino del valore di 6.000 euro. E nel veicolo scrissero con vernice spray un avvertimento in dialetto, pacate 50.000 euro o ciao. La minaccia non intimi di Marini, il quale denunciò il furto al commissariato di Nardò e ai poliziotti raccontò la strana visita ricevuta. Gli agenti, guidati dal commissario Pantaleoni Colì, si recarono all'appuntamento fissato per la sera, a cui erano stati rinviati Mi e Calignano per cogliere l'infragranza di reato, ma queste non si fecero vivi. Gli elementi, però, per far scattare le manette, sono stati presto raccolti. I filmati delle telecamere di sorveglianza della location cinematografica, che hanno ripreso il furto nel camion, sarebbero inequivocabili. E i due malviventi sono stati riconosciuti anche da due ragazzini che gironzolavano vicino ai camion e che si dileguarono appena Mi chiese loro se non avessero altro da fare. Un episodio che indicherebbe, secondo gli investigatori, la capacità intimidatoria di Luca Mi. Un plauso all'indagine Lampo della Polizia di Stato è giunto dal procuratore generale Cataldo Motta, il quale esorta i cittadini a non nascondere le estorsioni perché a ognuna di esse denunciata, ha fatto notare, corrisponde sempre un arresto. E' finito in tragedia il terribile tamponamento avvenuto nella notte, intorno alle 3, sulla strada Lecce Maglie, poco dopo il centro commerciale Leclerc. Vittima un 52enne Antonio Ricchiuto, coltivatore diretto, originario di San Donato, morto a seguito dell'impatto, a bordo del suo motocarro a pepiaggio. A nulla è servito all'intervento dei carabinieri del 118 e della polizia stradale. L'uomo è morto di lì a poco. Ancora sconosciute le cause dell'accaduto, sembrerebbe che un'opelastra abbia provocato lo scontro. Sul fatto indagano le forze dell'ordine. Ancora incendi di auto in città e le cause, anche questa volta, sono tutte da verificare. La polizia sta indagando per capire se gli episodi siano di natura dolosa o accidentale. Il primo episodio si è verificato all'alba di oggi, intorno alle 5, nel quartiere Stadio, in via Marinosci, nei pressi dell'incrocio con Viale della Libertà, è andata in fiamme una Mercedes, di proprietà della moglie di un commerciante che risiede in zona. L'auto era stata usata dal figlio della coppia, rientrato in casa intorno alle 3. Nonostante l'intervento dei vigili del fuoco, la Mercedes è andata completamente distrutta. Il veicolo era posteggiato davanti ad una farmacia, rimasta lievemente danneggiata dalle fiamme, una videocamera di sorveglianza che però potrebbe aver registrato dettagli utili alle indagini. È un distributore di preservativi. Poco dopo, ma in un'altra zona di Lecce, nel quartiere Rudie, e più esattamente in via Casavola, nei pressi di via Monteroni, i pompieri sono intervenuti per cercare di spegnere l'incendio di una Toyota Yaris e di una Citroen Picasso parcheggiata accanto. La prima è andata distrutta, mentre l'altra vettura ha subito vari danni. Per capire le cause degli incendi saranno le indagini della sezione volanti a fare luce sugli episodi. Una banda di magrebbini dediti al furto di pannelli fotovoltaici è stata sgominata la scorsa notte dai carabinieri della Compagnia di Lecce, di quella di Campi Salentina e di quella di Gallipoli. In manette 12 individui che in una zona compresa fra Borgagne, Lecce, Maglie e il Gallipolino hanno messo a segno almeno una ventina di colpi, l'ultimo dei quali la scorsa notte era in compimento a Borgagne quando sono giunti i militari dell'arma e hanno tratto in arresto i malviventi. Uno di loro però è riuscito a fuggire. La banda, il cui nucleo è a Eboli, ieri notte si stava servendo di 5 camion per rubare i pannelli, bottino del valore di 62 mila euro, refurtiva che avrebbero trasferito a Marsiglia. Da lì avrebbero imbarcato la merce probabilmente destinata al Nord Africa, dove ogni pannello viene venduto per 100 euro. Nei camion, dopo aver caricato la refurtiva, i malviventi mettevano dei mobili proprio vicino agli sportelloni. La banda, velocissima nel compiere la razzia, prima di agire effettuava dei sopralluoghi nel Salento. La scorsa notte però è stata tradita dall'allarme antifurto dei pannelli. A Bari, cerimonia celebrativa per il novantesimo anno dalla fondazione della Camera di Commercio Italo-Orientale. Il presidente Antonio Barile nel suo intervento ha ricordato l'intenso lavoro svolto dall'ente camerale negli anni al fine di incrementare le opportunità di vendita dei prodotti delle imprese italiane all'estero, ritenendo che l'export possa essere una via per superare la crisi della domanda interna. Il supporto della Camera di Commercio di Bari e della Regione Puglia è stato fondamentale, ha sottolineato Barile, perché ha dato maggior risalto e reale sostegno alle nostre aziende, mettendo a disposizione delle stesse diverse attività. Sono state proposte missioni economiche, come ad esempio Buon Appetito in Polonia, ma anche partecipazione ad eventi fieristici come Food Expo a Hong Kong o anche l'organizzazione per mezzo della nostra delegazione sul territorio di un forum economico internazionale in Giappone, o ancora il patrocinio e la partecipazione all'evento Think Asia, Think Hong Kong e altre iniziative. Non ultimo azioni formative, come ad esempio la presentazione dei paesi su Singapore, Malesia e Indonesia o vari seminari. Stretta la collaborazione con i vari enti del territorio, al fine di creare sinergia a favore dello sviluppo dell'economia locale, con ampio respiro regionale ed extra-regionale. Per il 2015 sono confermate diverse delle iniziative che sono state sperimentate con successo e nuove ipotesi di lavoro o di territori da proporre direttamente alle imprese, come ad esempio una missione in Asia, una settimana dedicata all'Italia e in Giappone e una missione economica di Bayer, ma anche eventi legati all'Expo 2015 che sicuramente potranno creare occasioni di scambio tra consumatori dei vari paesi e le imprese italiane e pugliesi in particolare, oltre a consentire ai diversi Bayer di conoscere e girare i luoghi dove sono prodotte le nostre eccellenze e in Puglia in particolare. Il presidente della Camera di Commercio di Bari, Alessandro Ambrosi, ha ricordato che alla città di Bari spetta il compito di agire come avanguardia per la ripresa e lo sviluppo commerciale con l'altra sponda adriatica e di riallacciare le antiche tradizioni con tutto l'Oriente. Gli obiettivi sono quelli che abbiamo sempre perseguito storicamente, cioè aiutare e sostenere le aziende a internazionalizzarsi, e andare sui mercati esteri perché oggi con una domanda interna in calo, con il consumo in calo, con la crisi che abbiamo nel nostro paese, è importante saper vendere i prodotti italiani all'estero e quindi aumentare il PIL del nostro paese e quindi una certa redditività. Naturalmente non è facile e noi siamo qui per questo a dare una mano. Le aziende abbiamo tentato di sostenerle in tutti i modi possibili e immaginabili. Purtroppo c'è stato un decreto legge che ha tagliato le entrate delle Camere dal 35% per il 2015, del 40 nel 16, nel 50 nel 17 e quindi ora dal punto di vista economico dovremo incominciare a reinventarci il sostegno che noi possiamo dare alle imprese. Tenga conto che nel 2013, i dati del 2014 ancora non sono completi ma saranno sicuramente superiori, nel 2013 la Camera di Commercio di Bari ha riversato sul territorio circa il 40% di quello che ha incassato e che vuol dire che ha riversato sul territorio oltre 15 milioni di euro. Sarà la ditta svedese Electa Spa ad aggiudicarsi l'appalto per la fornitura di un acceleratore lineare top di gamma all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Lo rende noto l'associazione Salute Salento presieduta da Cesare Mazzotta. La procedura di gara, iniziata il 22 settembre scorso con un avviso volontario per la trasparenza ex-ante ha avuto una sola offerta, quella della già citata ditta di Stoccolma. Tuttavia, a conti fatti, l'AS di Lecce ha messo a segno due bei colpi. Si porta a casa un macchinario di ultima generazione, unico in tutto il meridione ed ha anche risparmiato un bel po' di soldi, fissando il tetto massimo a 2,7 milioni di euro. Intanto è stata nominata la commissione che verificherà la congruità dell'offerta prima dell'apertura dell'unica busta, fissata per lunedì 22 dicembre. Il team sarà formato dall'ingegnere negro della ASL Leccese, dalla dottoressa Daniele Russo del reparto radioterapia della stessa ASL, dalla dottoressa Rita Dell'Anna, responsabile dell'area gestione patrimonio e dalla segretaria, dottoressa Eleonora Manfredi. Se tutto procederà come previsto, la Electra effettuerà una serie di lavori di adeguamento che rivoluzioneranno il reparto radioterapia del Fazzi e consegnerà entro il 31 dicembre 2015 un acceleratore in grado di curare anche tumori particolari, grazie a dei fasci lamellari ad alta intensità. Un grande successo dunque della sanità pubblica, al quale hanno contribuito il direttore generale Valdo Mellone e il signor Massimo Rizzo, disoccupato di Surbo, che ha mobilitato le forze politiche, le parrocchie e la società civile per fare arrivare anche a Lecce la migliore tecnologia. Proseguono gli appuntamenti per fine terra, l'esposizione itinerante che si prolungherà fino al 23 dicembre per incrociare la storia, i paesaggi, i cibi e i racconti. È una festa, un momento di studio, un percorso di scoperta che si snoda attraverso i castelli di Acaia, Castrignano dei Greci, Tricase, Copertino, Gallipoli, Andrano e Otranto. Il tema scelto quest'anno è Donne che nutrono il mondo, il femminile nell'arte e nella cultura del Mediterraneo. L'iniziativa è promossa dalla provincia di Lecce tramite l'Istituto di Cultura Mediterranea in collaborazione con Women for Expo e con la direzione artistica della giornalista Monica Maggioni. Il programma di oggi si apre nella chiesa delle Clarisse di Copertino con due incontri, esuli, profughi e raminghi, la vita e l'esperienza artistica altrove, con la presenza di vari importanti saggisti, giornalisti. Subito dopo la giornalista Monica Mangioni coordinerà l'incontro Donne che parlano di donne, rappresentazioni femminili nei media dei paesi del Mediterraneo. Nel complesso di San Francesco della Scarpa sarà inaugurata la mostra District 913 a cura di Giorgio De Finis, una mostra che rappresenta esperienze artistiche che hanno vissuto e trattato lo sradicamento dell'emigrazione. Il castello di Acaia accoglierà Custodire l'Ombra, esibizione di Antonio De Luca. Si prosegue poi con il concerto dell'Orchestra Popolare, ideata dall'Associazione Papagna di Raffaella Aprile e infine in serata i cantieri Coreia ospiteranno l'ultima replica di Cater Irades. Il Naufragio, spettacolo della Compagnia Salentina realizzato in coproduzione con la Biennale di Venezia su musiche originali del compositore albanese Admir Scurtai. Un modo diverso di degustare l'arte facendo del bene. Questo è il senso di Wainart, l'evento di beneficenza che si è tenuto ieri sera presso la nuova Galleria d'Arte di Lecce Art & Co., in corrispondenza dell'esposizione delle opere del maestro Ugo Nespolo. Un percorso degustativo che ha visto coinvolte le cantine salentine più prestigiose e di sommelier dell'Ais, che hanno guidato i partecipanti, fornendo loro basi minime per imparare a capire un vino. Il tutto accompagnato da emozionante musica dal vivo, con la partecipazione di un gruppo jazz e di giovani artisti salentini di grande talento. Presenti anche forni e aziende agricole di alta qualità, che hanno sposato l'iniziativa fornendo prodotti tipici locali. Quattro i punti cardine della serata, ossia arte, vino, sapori e musica, per raccogliere fondi a favore di due associazioni benefiche. Il Rotarat Club Lecce, promosso da Rotary International, vede impegnati giovani tra i 18 e i 30 anni, di buon carattere e con potenzialità, e organizza attività di raccolta fondi nell'ambito del progetto Love Your Dreams, con lo scopo di soddisfare le esigenze della comunità locale e sviluppare capacità professionali e doti direttive. Love Your Dreams è un progetto nato osservando la comunità attuale, nasce per educare le nuove generazioni nel collaborare e nel realizzare i propri progetti. Ha tanti punti di azione questo progetto. Innanzitutto coinvolgeremo le scuole medie ed elementari per sensibilizzare i ragazzi sulla mobilità sostenibile, anche sul rispetto dell'ambiente e anche quello di praticare delle azioni di solidarietà. L'associazione Leo Gleb Lecce Santa Croce coinvolge ragazzi tra i 12 e i 30 anni, che svolgono attività di servizio alla comunità. Nell'ambito del progetto Leo4Children, i giovani Leo aiutano i bambini durante il loro periodo di permanenza ospedaliere, migliorando nelle qualità di vita. Il Leo Gleb Lecce Santa Croce sta appoggiando il tema operativo nazionale Leo4Children. è l'acquisto di un kit per allestire le sale ricreative e ludiche dei presidi ospedalieri del territorio italiano. L'obiettivo è quello di sostenere le famiglie all'interno di questo percorso di criticità. La torta biancorossa non ha causato turbamento nell'incontro tenutosi ieri all'hotel Tiziano per lo scambio d'auguri natalizi tra il presidente del Lecce Savino Tesoro e i cronisti sportivi. Presente oltre alla moglie del patron, la figlia Giulia, vicepresidente del club. Nessun disagio per la torta perché l'attesa dell'ambiente giallorosso è rivolta al dolce che potrà riservare la sfida di domani ai ragazzi di Mister Lerda impegnati sul campo dell'Ischia Isola Verde. Partita che sulla carta dovrebbe risolversi in una passeggiata per i salentini, ma si sa, il calcio si gioca su terra o erba magari sintetica e non sui fogli di giornale. E domani la truppa giallorossa non disporrà di Moscardelli e Mannini infortunati. Lerda ha avvisato che la squadra dovrà essere pronta a livello nervoso, ma bisognerà reggere anche l'impatto con l'ambiente ischitano. Si giocherà, ha fatto notare il tecnico, su un terreno non in perfette condizioni e questa sarà un'altra difficoltà per i giallorossi. Insomma, il Lecce dovrà finire con una vittoria il 2014, nella speranza ribadita ieri da Savino Tesoro, che il prossimo anno sia migliore di queste ultime settimane. E aggiungiamo noi, sia migliore di un 2014 che ha visto sfumare ancora la promozione dell'Ecce in Serie B.